fa girare bene palla l'Udinese, sale Isla sta giocando il cileno in costante protezione offensiva Inler, movimento di guagliare Inler, si allunga Giulio Cesar poi Santoni in anticipo su Floro Flores Stankovic palla nella zona di Montari Capisce male se ne è salito bene Montari, lo stesso palla prolungato dell'Inter Montari in verticale per Ibrahimovic la controlla libera all'interno dell'area di rigore due su di lui, prova a liberare la destra in contotempo Stankovic arriva Montari con il destro palla che spera il palla verso il fondo E' partito Guagliarella, lo vede da Samoa palla in verticale, Guagliarella esce Giulio Cesar Guagliarella la porta è vuota Giulio Cesar sul pallone Che palla gli ha dato a Samoa Gli ha avuto la sensazione che abbia preso il pallone invece no, lontissima Guagliarella la calcio di rigore Palla di Maxwell, si prosegue per il vantaggio attacca l'Udinese, Guagliarella porta il tiro la palla, sfiora il palo va sul fondo era comunque sulla traiettoria Giulio Cesar Alimenta l'azione offensiva Samoa l'apertura a destra, possono attaccare in due Pepe, subito in verticale grande palla per l'inserimento di Guagliarella in era Guagliarella, il tiro Tordoba, straordinario Parte Balotelli secondo pallo, Ibra Ibra gli è benissimo quasi in zona tiro adesso è deliberata il pallone scarica su Hiller palla sul destro, Hiller porta il tiro palla fuori di un soffio accelera Pasquale largo floor, Flores il cross al limite Guagliarella prova a girarsi Guagliarella il tiro palla di poco sopra la travessa Balotelli resiste al tentativo di fallo l'apertura per Ibra Imoic palla sotto porta Stacovic Ibra di tacco il pallone per Stacovic figo dentro per Ibra c'è Stacovic al centro Ibra, Ibra davanti al portiere che l'è chiuso e palla che termina fuori chiude Viera Stacovic pallone per Figo Ibra Imoic si gira l'inserimento di Viera Ibra dentro per Viera Viera davanti al portiere Viera va giù l'intero in vantaggio e questo è il gol di straordinario peso l'intero è più 9 il quiz su Asamoa Ibra cerca una soluzione personale ne salta un secondo ne salta un terzo ancora Ibra prova il tiro palla fuori ha scurato il gol capolavoro assedio di Ludinese le fitte di Oboto il cross con il destro colpo di testa e palla fuori di un soffio palla col per Ludinese il pallone è recuperato da D'Agostino se ne è andato il sesto minuto di recupero 2-9 l'intervincio è 1-0 ha più 9 sulla Juve